Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Fabbro e Valdichiana e tra Firenze Impruneta e Barberino. Sempre in direzione Bologna, ricordiamo che sono chiuse le corsie di destra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla Fipilì un chilometro di coda per lavori in direzione mare tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina. Rallentamenti sulla carreggiata opposta in direzione mare. E per lavori ci sono anche rallentamenti sempre in direzione Firenze tra Lavoria e il Bivio Pisa Livorno. La viabilità cittadina a Firenze in via Baccio da Montelupo. Rallentamenti per un incidente che ha causato il restringimento della carreggiata. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!